Sì, siamo molto felici perché dopo la partita di ieri, che comunque era molto tosta, con una squadra molto difficile, però abbiamo visto che abbiamo vinto quei due set ieri, allora alla fine il quinto set pensavamo dai ce la possiamo fare, purtroppo siamo partite un po' male e loro individualmente sono così forti che appena gli è girata bene la palla non erano più da fermare, allora il quinto set non potevamo vincere, in più siamo felici che oggi invece era proprio contrario, il quinto set abbiamo vinto noi, Galatasaray non ha mollato mai, noi dovevamo veramente fino alla fine buttarci, fare tutto, non mollare mai per comunque vincere, sono felici che possiamo andare a casa con una medaglia, veramente. Anche voi non avete mollato mai, né ieri né oggi, perché quando vi hanno raggiunto poteva mettersi male la partita. Sì è vero, sono molto felice per la nostra squadra, per tutto l'ambiente, per lo staff che comunque lavora notte e giorno per darci la tattica giusta, sono felice per tutti e orgogliosa che potevo portare questa medaglia a casa per Busto. Una buona cosa per la finale di Coppa Italia, perché voi non vi fermate mai, sabato ci si è alla semifinale di Coppa Italia. Eh sì, oggi siamo ancora felice, ci godiamo questo terzo posto, poi appena torniamo a casa ci prepariamo e concentriamo sul weekend dopo. Due parole sui tifosi? Come? Due parole sui tifosi? Ma sono incredibile, sono venuti qua per comunque portarci un po' di casa con noi, stavano anche ieri sempre con noi, e hanno detto di stare tranquille e proprio per questo anche per loro sono felice.